Allora, cerchiamo di essere seri con Michele Scarponi, sempre simpatico, sempre pronto alla battuta. Sinceramente, Michele, ti senti più bravo nel ciclismo o nel tennis? Tennis. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Il Giro d'Italia, questo Giro d'Italia che è stato presentato in settimana, quanto ti piace da 1 a 10? Passo. Per quanto riguarda il prossimo anno, voltiamo pagina, bocche cuscite, tutti ti vogliono, ma chi ti prende? Tutti mi vuole, nessuno mi prende. Penso che questa è una domanda che posso rispondere come quella del Giro. Passo. Perfetto, grazie, buon lavoro. Ciao. Ciao, ciao. Grazie, Michele.